Io mi vaccino per tornare ad una vita normale e questo è l'unico modo. Io mi vaccino perché come abbiamo sconfitto il vaiolo e l'apoglio, così sconfiggeremo anche il Covid. Io mi vaccino perché non ci sono alternative. Io mi vaccino perché non mi voglio ammalare di Covid e non voglio che i miei pazienti si ammalino. Io mi vaccino perché ho fiducia nella scienza. Siamo in prima linea, stiamo aspettando che la tecnologia dei vaccini ci permetta di poter utilizzarli e di poter utilizzare i vaccini nei nostri ambulatori. Appena arriveranno i nuovi vaccini, quelli che saranno monodose, quelli che potranno essere conservati a temperatura ambiente, noi siamo pronti e ci stiamo attrezzando per organizzare sul territorio una campagna di vaccinazione a tappeto perché ci rendiamo conto che la vaccinazione è l'unica maniera per uscire fuori da questa epidemia. Lei dice io sono sicuro, mi vaccino perché nel vaccino non c'è il virus. Sì, siamo sicuri. Nel vaccino ci sono parti del virus, cioè il virus ucciso. È una tecnologia rivoluzionaria, straordinaria, anche per i tempi brevi con i quali questa tecnologia è stata realizzata. E dobbiamo ringraziare la scienza perché ci permette nel giro di pochissimo tempo di affrontare una malattia così diffusiva ed essendo così diffusiva produce tanti morti. Che posto della situazione avete in questo momento, della volontà dei pazienti di vaccinarsi? C'è una grandissima richiesta, anche il nostro spot, non so quanto posso aver contribuito, però io di questo devo ringraziare anche il sindacato dello Snami che si è fatto promotore di questa iniziativa proprio per sensibilizzare, per far dire noi medici ci stiamo vaccinando, fatelo anche voi. E questa campagna sta producendo una grande attenzione da parte dei pazienti. Io mi vaccino perché non voglio che altri si amagliano. Io mi vaccino anche se sono stato già colpito dal virus. Io mi vaccino, se vuoi bene ai tuoi cari, fai il vaccino anche tu. Io mi vaccino per spezzare questa catena che ci oppriva. Io mi vaccino perché è certo che nel vaccino non c'è il virus. Io non faccio lo stolto, mi vaccino per tornare finalmente a una vita normale. Io mi vaccino, se vuoi bene ai tuoi cari, fai il vaccino, 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 fai